E' circa due anni che cerchiamo di coinvolgere il Comune, sensibilizzarlo sui problemi che abbiamo trovato nel percorrere il nostro quartiere a riguardo delle barriere architettoniche. In vari casi abbiamo portato foto, parlato di varie barriere anche causate da interventi stessi del Comune, ci siamo trovati a questo punto a rivolgersi a Stiscia Notizia. E' da qualche mese che è in corso da parte nostra un censimento delle barriere architettoniche. Abbiamo avuto anche un incontro con il Vescovo e a questo punto con tutti gli altri quartieri, con le parrocchie andremo a fare un censimento di tutte le barriere che troviamo per i disabili, di tutti i tipi, i motori, sensoriali, per età, condizioni temporanee. E Stiscia Notizia ci siamo contati da tre mesi e abbiamo sottoposto varie problematiche e quella che per ora l'ha toccata è questo del fatto. La recente collocazione, potremmo dire distratta, dei cestini lungo tutto il quartiere e la città che non tengono conto di misure che consentono un agevole percorrere dei marciapiedi della città da parte dei disabili motori.